Ben tornati le notizie di martedì 30 di agosto e subito la cronaca. Controlli intensificati nel fine settimana da parte dei carabinieri di Senigallia in occasione dell'apertura della fiera di Sant'Agostino. Un 32enne marocchino senza fissa dimora da diversi anni in Italia, che in passato ha lavorato in vari locali senigalliesi come aiuto cuoco, era colpito da un rintraccio. Le operazioni di identificazione hanno evidenziato che il 32enne era ricercato dal dicembre 2015 sulla base di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pesaro, in quanto condannato con sentenza irrevocabile per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il marocchino è stato arrestato, controllati altri due stranieri colpiti da provvedimenti di rintraccio. Cambiamo argomento. La cena di domenica 28 agosto è stata l'ora dell'aiuto alle popolazioni di Amatrice e delle zone colpite dal sisma. La spaghettata a base di Amatriciano, organizzata dalla città futura, ha raccolto 3.595 euro. Hanno dato un proprio contributo, 242 persone con versamenti a partire da 10 euro, oltre che Coppa Alleanza 3.0 che ha fornito parte delle materie prime, la cantina è boccafosca che ha donato il vino. Ancora un giorno di tempo per compiere un gesto di solidarietà nei confronti delle popolazioni di Marche, Umbria e Lazio colpiti dal terremoto. La protezione civile di Senigallia, i falchi della Rovere ha organizzato uno stand gastronomico in via Montenero, dove attiva una raccolta fondi anche per le zone terremotate. Due o tre giorni prima di questo evento, che abbiamo chiamato Festa del Volontario, insomma è successo quello che è successo, questo grosso terremoto al centro Italia che ci ha preso un po' alla sprovvista e non sapevamo se farla o non farla, perché era una festa, quindi non poteva, non doveva essere il caso di farla. Però abbiamo pensato di fare una cosa, di destinare una quota, una parte di proventi che erano indirizzate all'autofinanziamento, li destiniamo a queste persone un po' meno fortunate di noi. Come protezione civile, come avete organizzato il personale per gli aiuti? Una prima squadra di volontari di protezione civile di Senigallia è partita il giorno dopo l'evento. Sono andati giù a dare una mano alle istituzioni preposte, ai vigili del fuoco, carabinieri eccetera, e hanno fatto diverse attività, dal montaggio del tende, pulizia di calcinacci, rimozione dei calcinacci eccetera. È stato un solo giorno, un giorno molto lungo perché hanno lavorato e tra viaggio e lavoro sono stati in giro 20 ore circa e il prossimo impegno sarà domani mattina, partono due squadre per Pescara del Tronto per l'assistenza ai terremotati nei campi. Venerdì 2 settembre alle 21.15 il Bellino Romualdo, in località Ripe di Trecastelli, ospiterà lo spettacolo musicale William Shakespeare, un piede a terra, l'altro fra le stelle. L'evento vedrà la straordinaria interpretazione di quattro grandi professionisti, Lucia Fiori, soprano, Stefania Betti, arpista, Mauro Pierfederici, attore, Cecilia Bramucci, violinista. Lo sport partirà ufficialmente giovedì 1 settembre, la stagione 2016-2017 dell'US Pallavolo Senigallia. Come avviene già da qualche anno, tutte le squadre iscritte ai campionati agonistici si ritroveranno alle 19 alla pista d'atletica delle Saline per iniziare insieme la preparazione in vista dell'avvio dei campionati previsto per metà di ottobre. Le condizioni del tempo di mercoledì 31 di agosto sulle Marche, cielo attesa una certa variabilità sia per le presenze di addensamenti e di una certa copertura sull'area interna meridionale fino al pomeriggio. Le precipitazioni, acquazzoni e rovesci sparsi, anche sotto forma di rovesci temporaleschi, i venti ancora poco avvertibili in mattinata, più tesi da nord-est nel corso delle ore centrali e pomeridiane, le temperature in lieve diminuzione. Previsioni elaborate dal Servizio Agrometeo regionale dell'Assam. È tutto anche per oggi, grazie, a domani. Grazie.